buona sera buongiorno ragazzi benvenuti in questo video allora ragazzi allora intanto prima di iniziare col video prima di iniziare con il video ho fatto una piccola intro per adattarmi per modificare un po i miei video che lo so che tra l'altro sono lo so noiosi ma ragazzi vediamo se vi piace una piccola cosa non è che sia sto programma tanto per una cosa corta però pazienza ragazzi allora intanto facciamo partire la nostra sigla allora amici sportivi youtube ben ritrovati juventino periferico con voi e allora allora c'è tanto da parlare c'è tanto da parlare facciamo conto facciamo conto però ragazzi parliamo un po' dell'atalanta e un po della partita juventus spalle juventus spalle che sarà più che sarà più spero spero per la juventus un allenamento perché per la juventus è un allenamento non è sto gran partitone che vedremo sarà più un pareggio un pareggio una sconfitta una sconfitta una vittoria ma diamo la buona la vittoria tanto perché diciamo che vincerà la juventus però però un pareggio un pareggio un pareggio con la spalle attenzione comunque ragazzi bando alle ciance parliamo un pochettino tequista atalanta atalanta mi pensavo di vedere l'inter in campo io pensavo di vedere l'inter ma invece l'atalanta ma invece era l'atalanta agli stessi colori però ragazzi facciamo facciamo un inchino alla grande atalanta bella squadra bella organizzazione un bel gestione di gioco di squadra e di mentalità perfetto ok ho riassunto l'atalanta come è giusto omaggiarla omaggiarla ragazzi il valencia battuto dall'atalanta 4 a 1 uuuu attenzione ragazzi attenzione all'atalanta che zitta zitta mucci mucci sta incamminando in questa in questa strada in questa in questo in questo traguardo che cerca di di tirarsi su questa atalanta che tra l'altro gioca gioca che è una bellezza ragazzi per quanto riguarda per quanto per quanto riguarda l'europa league l'europa league l'inter 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 ha vinto 2 a 0 che non mi ricordo in che squadra ha giocato in quale squadra ha giocato almeno non mi ricordo ragazzi diamoli fiducia all'inter anche per l'europa league facciamo qualche tifo per questa inda che farà questo cammino in europa league non champions perché in champions c'è la vice inter atalanta atalanta bello è una squadra una squadra ben organizzata una squadra ben organizzata ma l'inter in europa league ha vinto 2 a 0 con una squadra che non si sa che squadra è beh però ragazzi adesso noi dobbiamo entrare in campo domani sera ore 18 bello orario come al solito bello orario se non è alle 18 è mezzogiorno e mezzo bello contro contro la spalla ragazzi ma sarà molto 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 fatica molta fatica tra l'altro che tra l'altro non vediamo questi risultati della juve come si sta approcciando col gioco lasciamo perdere però ragazzi io prevedo io prevedo un pareggio no già che giochiamo di già che giochiamo di merda premoncio un pareggio dopo che venite fuori a dirmi eh ma non sei juventino ti lamenti sempre non sei mai non sei mai contento fiducioso della juve ragazzi sono realista vedo vedo quello che vedo dico quello che dico dico dirò anche cavolate cavolate adesso non importa ricordiamoci ragazzi che io non sono un loro attore di calcio non sono competente di calcio sono un semplice tifoso sono un semplice tifoso che critica la juventus nel bene o nel male eh si critica perché cosa vogliamo dire che la juve gioca bene in questo periodo che c'è Sarri no no non gioca bene e dobbiamo e dobbiamo finché c'è Sarri e finché c'è questo gioco rinunciatario eh da parte della juventus gioco rinunciatario non è neanche colpa dei giocatori è colpa della dirigenza che non si muove da dove da dove è e comunque ragazzi eh critichiamo finché c'è da criticare noi critichiamo questa squadra nel bene o nel male va bene ragazzi sempre bisogna dire sempre forza juve però ragazzi calma 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 che l'Inter è ancora favorito per i il campionato per lo scudetto eh l'Inter è ancora favorita per lo scudetto ma e attenzione a Lazio attenzione a Lazio che va in fuga va in fuga anche lei vince sempre e noi facciamo fatica anche a vincere con le squadre piccole ma cosa vogliamo cosa vogliamo pensare di vincere di andare in finale di champions ma dove 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 ma dove andiamo dove andiamo dove where 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 dove dove non lo so comunque ragazzi beh vediamo com'è come si cosa vedremo in questa questa partita di di campionato Juventus spalle però ragazzi e attenzione si avvicina Juventus Lione o Lione Juventus se non ricordo però attenzione eh qua ci aggiorneremo ci aggiorneremo per il resto ragazzi io vi saluto vi saluto grande atalanta inter sugli allori con una squadretta in europa league eh lasciamola vincere lasciamo vincere qualche competizione europea tanto tanto ha solo quello ha solo quello da vincere gli è rimasto solo quello dell'europa league ma noi bisogna stare attenti noi i colione e niente ragazzi noi ci sentiamo al prossimo video e va bene lasciate un mi piace commentate eccetera 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 va bene e sempre sempre forza Juve o almeno che si vinca o che si perda forza Juve inter merda a me ragazzi un saluto da Juventino Periferico ciao ragazzi e e se e e e Grazie a tutti.